Cari prefetti, ho vivamente apprezzato la convinta adesione che avete riservato all'invito a celebrare la solemma ricorrenza della festa della Repubblica con la sobrietà che il momento richiede, riaffermandone comunque il profondo significato nel rinnovato richiamo ai valori sui quali si fonda la nostra comunità nazionale. Come tutti coloro che esercitano funzioni pubbliche sul territorio, voi siete interpellati quotidianamente dalle ansie e dalle aspettative di persone, famiglie e imprese in difficoltà. Di questa vera e propria questione sociale che si esprime soprattutto nella dilagante disoccupazione giovanile, bisogna farsi carico ponendola al centro dell'azione pubblica, che deve connotarsi per un impegno sempre più assiduo nella ricerca di soluzioni tempestive ed efficaci alle pressanti istanze dei cittadini.